la facciamo ancora il personale ecco questo l'annotetto adesso facciamo sempre da vargo questo è previdente primo giorno di apertura 25 Natale grazie grazie è pronto se vuole un po' molto freddo noi siamo arrivati un po' prima il nostro corso gratuito Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.